Prodotti alimentari biologici a chilometri zero, realizzazioni artigianali che vengono dalle zone in guerra e gadget etici con il celebre logo della E-Rossa. Inaugurato dal gruppo territoriale di Emergency Napoli il Temporary Store di Via Santa Brigida e così che a pochi passi da Via Toledo, strada dello shopping natalizio per eccellenza, Emergency propone ai napoletani un'alternativa solidale, offrendo la possibilità di moltiplicare i sorrisi sotto l'albero, ma ascoltiamo i volontari. Nel negozio di Emergency, come in tutti gli spazi di Emergency in Italia, si trovano prodotti biologici, prodotti, i gadget, tutti i gadget di Emergency che ovviamente vengono venduti da Emergency, poi una serie di prodotti etnici che vengono realizzati per esempio in Afghanistan o nei paesi dove noi siamo presenti con la nostra associazione. Quello che è importante è capire che comprare anche un solo oggetto di quelli che si trovano in questo negozio aiuterà tutto il programma Italia, cioè tutte le attività che stiamo svolgendo sul territorio italiano perché dal 2006 noi siamo presenti in Italia e qui a Napoli in particolare siamo presenti con due ambulatori, uno a Castelvolturno e uno a Ponticelli. Tanta affluenza di gente ma soprattutto il divertimento da parte di noi volontari che abbiamo veramente messo il cuore in questa esperienza, abbiamo fatto tutto noi dalle scritte, dall'allestimento. Siamo contenti di...